Ogni anno aumenta il numero dei minori scomparsi. La maggioranza di questi viene ritrovata, gran parte nella prima settimana. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico di tutte le ricerche a livello nazionale. Quando scompare un minore, contatta immediatamente le forze dell'ordine. Chiama il numero unico di emergenza 112 o rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia. Denunciare subito è fondamentale perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Fornisci alle forze di polizia le generalità del minore e delle foto chiare e recenti. Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile al riconoscimento. Avverti se il minore sa ritrovare la sua abitazione e se conosce i numeri di telefono dei suoi familiari. Pensa a cosa farebbe in una situazione di difficoltà. Riferisci se credi possa aver subito abusi o violenze domestiche. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla sua scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare il minore. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al suo ritrovamento. Controlla la sua stanza, il cellulare e il computer e verifica ogni dettaglio utile. Contatta i suoi insegnanti e chiedi di recenti comportamenti insoliti. Aggiorna sempre le forze di polizia su ogni tua attività di ricerca e scoperta. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. Chiama subito il numero unico di emergenza 112. 112, mi dica.